Riflettori puntati su pescherie, ristoranti, ma anche grandi centri di smistamento e spedizione di prodotti ittici dell'Abruzzo e del Molise. Controlli che hanno portato a sequestre e multesalate fino anche a 25 mila euro. Si chiama Mistral, l'ultima operazione a cura del centro di controllo area pesca della Direzione Marittima di Pescara, nel corso della quale personale in forza a tutti gli uffici della Direzione Marittima, da Martinsicuro a Campomarino, ha intensificato l'attività di vigilanza e monitoraggio. Tutto è partito da un lungo periodo di osservazione, durante il quale i militari hanno intercettato in autostrada diversi furgoni isotermici diretti per lo più verso Roma e usati per il trasporto dei prodotti ittici, ma privi in alcuni casi di qualunque documento che ne attestasse la tracciabilità. Diverse le violazioni contestate, tra le principali violazioni la pesca di prodotto ittico in quantità superiore a quella autorizzata, così come lo sbarco, il trasbordo e la commercializzazione di novellame. I militari si sono concentrati in particolare sulla commercializzazione delle vongole. In occasione di un'ispezione ad un centro di spedizione di molluschi bivalvi, sono stati sequestrati circa 800 chili di prodotto ittico, privo di qualsiasi documentazione. In tutto sono state 150 in pochi giorni le verifiche fatte dalla Guardia Costiera tra Abruzzo e Morise. I controlli proseguiranno chiaramente per tutta l'estate e finora il prodotto ittico sequestrato ammonta circa 1500 chili.